L'anno passato qui in Barcellola con la mia novia, in febrero, in febrero passato. In febrero, è stato ben verano. Si, si, si. E caperi. C'è? 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 Faccio 3 minuti per esempio andiamo a 3 minuti a pezzo dopo scritto Abbiamo comito in un luogo italiano, a Barcelone, molto buono, si chiamavano... Che, un ristorante? Sperai a Barcelone. Questa è? Questa è la casa Batro. Questa è la casa Batro. Questa è la casa Batro. Ah, la casa Batro. Ah, molto bene. Molto bene. Questa è circa 4 minuti. Il mio padre ha detto che è stato in Barcellona nel rio e è stato molto felice che viaggiate. Si è iniziare. La mia città è un po' meno bassa. Ora è più facilmente. Ah, perché è iniziato? Si, è iniziato. È iniziato perché è iniziato un po' meno bassa di temperatura. perché è molto fio ora la temperatura è di 294 gradi? si, ma deve essere da 320 gradi a 340 gradi 340 gradi ora è un po' meno per questo la pizza deve essere un po' più e ha bisogno di rinforci ma dov'è si, si, non si trovi si, si anche per dire dolore ho parlato un po' di spagnolo tu parli un po' di spagnolo molto bene mi piace mi piace si 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 5 minuti si 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 si